E no, ultima cosa, ultima cosa, per tutti quelli che avevano chiesto come io avrei apprezzato la versione PlayStation 4 con VR, lo potete vedere dalla sua faccia che ha paura e c'è scritto difficoltà a casa degli orrori. Era impossibile. Ha deciso di farlo su PC. Assolutamente, ho detto che non l'avrei mai fatto inviare, se sei chiaro. Però potete aprire una petizione su change.org. Quante firme vuoi? È realistico però. 15.000? No, dai. Realistico. E quanto è realistico? Mille? No, 10.000? 8.000? 10.000. Dai, 10.000. 5.000. Non lo posso giocare? 5.000. 5.000 sono troppe poche. Troppe poche non è neanche italiano. Sono troppo poche, ho detto. 10.000. A 10.000 ci facciamo una riflessione. Ma chi che rifletti? A 10.000? A 10.000 gioco su PlayStation VR. Vai, buzzi e su chi cazzo a tutti quelli che ci guardano? A 10.000 ci giociamo su PlayStation VR. Ma non ci gioco su PlayStation VR. Mi piace. Purtroppo la regia è sempre di Jacopo. C'è quello che cammina. Eh, maronna. C'è quello che cammina in un modo che non ha senso. L'hai visto come camminava? C'è quello che cammina in un modo che non ha senso. C'è quello che cammina in un modo che non ha senso. Oh, dai, non cominciate, dai. Avete rotto il cazzo. Dai, veramente, ragazzo. Che cosa è successo? Però qui, qui. È tollerato. Che è successo? Niente, niente. Hai acceso la lampadina, non si sa come. Qui la dai, dai, chiamate i vostri amici. Devi stare zitto. Non so come dirtelo. Lo stavano proprio scrivendo. Eh, devi stare in silenzio completo, porca troia. Eh. Ma non presi... Stai zitto un attimo. Se è più lento di me, però è un'ora, eh. Comunque abbiamo passato i 2.000. E batti questo 5. Ma perché dovrei avere un tubo? Ma attento! Chi è? Chi è, Andre? Sei caduto, c'è Andre che aveva il tubo. Ma perché ha il tubo in bocca? Perché gli hanno spiaccicato. C'è uno che arriva. Dove sta? È andato via. Ma scusa, ma... Oh, devi stare zitto. No, devi stare proprio zitto. Cioè, non sento i rumori. Non so come dirtelo. Chi c'è? Stai scherzando. Ragazzate. Oh, porca troia, si è rotto. Quindi non possiamo manco più di... Attento! È come con un bambino down. Dannazione. E stare un poco zitto. Lo senti che c'è rumore? Shhh. Orga putt... Pazza, ma chi era questo qui? È uno di quelli. Oh, sta cambiando. Che cosa succede? Devi guardare. Sto guardando. Eh, devi... Oh, sì, però... Sto guardando! Devi... Sto guardando! Ho capito. Però... Non morire. Non ho fatto niente. Chi è? Chi è? Chi è? Dove dove ad andare? Dove dove ad andare? Non per un cazzo. Non sta succedendo niente. Non sta succedendo... Vai dalla tipa che ha urlato. Non c'è più! E vai! Dai, è impossibile. Ma che faccio fai? Ma che cos'è questa roba? Che è successo? Dai, Paolo. Ti avverte prima di farti fare un salto. Usa la soluzione medica. Musica la soluzione medica. Musica? Cioè, lui aveva un buco su una mano. Ma che cos'è il santo Graal? No, ma poi aveva un buco. Eh? E neanche Indiana Jones. Ma aveva un buco sulla mano. Scusami, mi... Eh, sprechi le cazzo di cose. Ma guarda che sei coglione, eh! Che bussante era? B. Dimmelo, cazzo. Prima che infatti possiamo aprirlo con le tronchesi. Se continui a correre, giuro su Dio che ti cavo in testa. Ma perché no? È ovvio che è un momento tranquillo questo qua. No, non devi correre. E poi non c'è la cosa del rumore come out. Guarda, l'armaggio sta laggiù. Attento! Attento! Ma sei stupido? Perché? Perché ci sta lei, ma non l'hai vista? Sì, l'ho vista. Ma sto tranquillo, capisci? Che è una che cammina, si fa i cazzi. Ma perché vai... Guarda dove viene! Mi stai urlando. Guarda dove stava, Alessio. Alza, ti stai acchiucciato, non lo vedi? Sto andando... Allora, se mi muo... Corro, rompi il cazzo. Se vado piano e sto circosmetto, rompi il cazzo. Chi ha anche a me circosmetto? Sì, sì, certo. C'è un punto... Salva! Salva! Corre. Tu avevi paura che... C'è mia! C'è mia! Ehi, il cadroio! Non vedi che sei coglione? Vabbè, Alessio. C'è la foto sega! Glippi cosa devo fare! Saccalo con i movimenti! Lo sto movimentando! Con trigger! Vabbè. Sei riuscito a morire? Ti rendi conto? Guarda! Guarda un po' di motosega! Che male! T'ha staccato la mano! Ha staccato un braccio. Penso che ti staccava il cazzo, all'è. Tira sulle scale! Le spegni le scale! Non le speggo le scale! Mi sono di raccogliere la mano. Vedi? Ah! Eh, così almeno te la fai riattacca. Ma non lo usare! Non la usare perché non ti ricresce la mano! La usi solo quando vedi rosso. E' sul braccio. Vabbè, sta sparando, cominciando. Già abbiamo iniziato. Dov'è? Cioè, io se sono imbarazzato. Non mi fa colpire, però. Cioè, che ti sta tagliando? Nella panta, mi sa di essere morto. Sì, sì. Non è andato ormai. Ok, proprio i momenti dei giochi. La volta più lunga del mondo. Cosa devo fare? Direi niente, Alessio, che dici? Che cosa vuoi fare? Sono ancora vivo? Sì. È incredibile. Sono morto. Ma perché sono morto? Pensa che noi abbiamo salvato un'ora fa. Ma perché, Alessio? Gli hai sparato su un dito. Su un braccio. Su un braccio. Poi gli dà un altro punto. Vabbè, vabbè. E voi siete cecchini. Vai. Voglio vedere il tuo cecchinaggio. Dai, ti dai una mossa. Ma che cosa cazzo vuoi che faccia? Se sto esplorando gli ambienti. Raccontami. Io sto malissimo. Dici che non mi vede? No, se vai piano no. A chi nino? No. Oh, che voglia! Vai via, vai via, vai via. Non riesco a correre, non riesco a correre. Ma perché non riesci a correre? Vai, vai, scendi le scale. Non posso! Vai, continuo a girare perché devi fare il giro. La mappa, se la metti, va in pausa al gioco. Ma come lo evito? Come lo evito? Come lo evito? Dai, devi girare attorno al tavolo. Aspettalo, aspettalo e gira intorno al tavolo. Oh, che cazzo è! Sì, vabbè. Sì, vabbè. Cazzo. Ma da dove è passato? Dal muro. Ma da dove? Da dove? Avrà sfondato un altro muro. Passa di lì, avrà... Dalla cucina, avrà sfondato la cucina. Ma lì? Non è, non tu. Comunque è un uomo più... Devi stare zitto! Non so come dire, traessio è il terrore! Lei è il credito, lei è il credito. Ah, per questa cazzo di botola! Un'ora e mezza! Vai, scendi. Non la chiudi la botola? Porca puttana, oh! Che angoscia del cazzo! Mamma mia! Grande prima puntata, quindi? Ci rivediamo fra un mese, un mese e mezzo. Sì, due pure. Con la seconda. Con il paio di mesi, alle due, due, più che seconda puntata. Che angoscia! E ve lo notifichiamo su Facebook, come oggi. Sì, esatto. E settimana prossima, scusa. Tendenzialmente settimana prossima. Però può succedere di tutto. Tipo? Non lo so, il lavoro. Hai presente il lavoro? Quindi non è un tuo problema. Cioè può succedere qualsiasi cosa. Il tuo lavoro! Esatto, io potrei avere problemi, ok? A posto. Grazie, è stato bellissimo. Ho finito pure la voce. Buon pranzo a tutti! Buon pranzo a tutti!